Quante volte bisogna andare in palestra per massimizzare la crescita muscolare? Questo video nasce per rispondere a questa domanda Ciao, sono Nicola Sorbini, mi occupo di allenamento della forza, di powerlifting e di powerbuilding Se ancora non mi conosci ti invito ad iscriverti al mio canale e guardare gli altri miei video Iniziamo subito Innanzitutto è bene dire che non esiste un numero preciso di volte nelle quali bisogna andare in palestra per massimizzare la crescita muscolare Tutto ciò dipenderà da diversi fattori Ovviamente in primis dal tuo tempo a disposizione, dal tuo livello di allenamento, quanto riesci a recuperare tra un allenamento e l'altro Tutte queste cose interferiranno sul numero di volte che riuscirai ad allenarti e trarne benefici Perché logicamente possiamo allenarci tutti i giorni volendo Il punto è quanto traiamo poi beneficio da questi allenamenti Possiamo subito dire che anche soli due volte a settimana di allenamento possono essere ottimi per aumentare la propria massa muscolare Semplicemente non saranno ottimali E questa è la distinzione fondamentale Dobbiamo riconoscere ciò che comunque funziona da ciò che è ottimale per un determinato scopo In questo caso per l'aumento della massa muscolare La distinzione però più importante in assoluto probabilmente è quella del livello dell'atleta Ovvero se sei un principiante, un intermedio o un avanzato Nel caso dei principianti il classico tre sedute settimanali è un ottimo punto di partenza Quando iniziamo non è necessario allenarsi 4 o 5 o più volte a settimana Mentre 1 o 2 possono essere un'alternativa ma sicuramente non sono ottimali per massimizzare la crescita muscolare L'aumento della performance, delle skills e della nostra forza Allo stesso modo allenarci più di 4 volte può essere eccessivo per un principiante Addirittura può essere inutile o peggio ancora controproducente Se non vengono correttamente manipolate le variabili quali volume, intensità Per un principiante il mio consiglio è di allenarsi full body Quindi in multifrequenza logicamente tre sedute a settimana Per quanto concerne invece atleti di livello intermedio Quindi qualcuno che ha già parecchie esperienze sulle spalle Diversi mesi o meglio ancora qualche annetto sulle spalle Allora si può passare e ripeto si può, non è necessariamente fondamentale Ma si può passare a 4 sedute settimanali di allenamento in palestra La domanda che potrebbe sorgere spontanea è ma perché allenarsi 4 volte e non 3? Semplicemente per il fatto che come più volte detto nei miei video Il volume di allenamento totale per ogni singolo muscolo È ciò che incide maggiormente sulla nostra massa muscolare Di conseguenza logicamente basta pensarci È più semplice accumulare maggiore volume totale di lavoro Suddividendo e distribuendo il volume totale di lavoro su più sedute settimanali Conseguentemente 4 allenamenti a settimana possono essere migliori di 3 allenamenti a settimana In questo senso è più facile fare determinati numero di serie in 4 sedute piuttosto che in 3 Detto questo è bene che voi non corriate subito a dire Io sono un intermedio, sono un avanzato, mi alleno 4 o 5 volte a settimana Perché ripeto è un discorso che funziona per atleti già preparati Quindi se da pochi mesi che ti alleni, se i tuoi carichi sono ancora molto bassi Se sei agli inizi e te ne rendi conto Se le tue performance, le tue skills non sono sviluppate Ti sconsiglio di passare subito a 4 o 5 sedute settimanali Anche se tu sei entusiasta e vuoi farlo da subito Allenarsi subito con tante sedute settimanali può essere controproducente nel corso del tempo e nel futuro Quindi cerca di rimanere sulle 2 o 3 sedute Consiglio nuovamente 3 per iniziare E poi penserai in seguito ad aumentare la frequenza settimanale di allenamento Per chi si allena per aumentare la massa muscolare in 4 sedute settimanali Si può optare per 4 full body oppure 3 full body più una giornata dedicata al lavoro extra Oppure ancora in una split Quindi magari in una giornata alleniamo tutti gli esercizi di spinta In uno quello di tirata e poi ripetiamo tutto questo Oppure ancora un giorno dedichiamo alla parte bassa del corpo Un giorno alla parte alta E nel terzo e quarto giorno nuovamente una parte bassa e una parte alta Di conseguenza il mio consiglio è sempre di allenarci in multifrequenza Che tu sia un principiante, un intermedio o un avanzato Mi raccomando di stimolare più volte a settimana il muscolo E quindi di farlo sia che tu ti alleni 3 volte a settimana Sia che tu ti alleni invece 4 volte a settimana Per quanto concerne invece atleti di livello tardo, intermedio ed avanzati Probabilmente se mi stai guardando in questo momento È raro che tu siano di questi Perché mi riferisco ad atleti con 5, 7, 10 anni di allenamento sulle spalle Ecco che allora arrivare a 5, 6 sedute settimanali Può essere necessario addirittura per continuare a crescere Perché? Semplicemente per il fatto che per anni ci siamo allenati 3 sedute settimanali Poi siamo passati a 4 per accumulare maggiore volume Poi per continuare ad aggiungere volume per aumentare l'ipertrofia Ecco che alcuni di noi hanno bisogno di arrivare a 5 sedute settimanali O addirittura 6 Logicamente in questo caso, lo ripeto, si parla di atleti di livello avanzato E soprattutto attenzione perché in questo caso Manipolare correttamente la selezione degli esercizi Ma non solo, anche le pause Il come periodizziamo l'allenamento nel corso dei mesi, dei mesocicli, del macrociclo E soprattutto come gestiamo il microciclo Quindi come suddividiamo l'allenamento e il target muscolare di giorno in giorno È estremamente importante per chi si allena appunto con così tante sedute settimanali Se ci alleniamo 5 giorni a settimana Fare 5 full body ad esempio Probabilmente non ci permetterà di recuperare tra una seduta e l'altra a sufficienza Se ci alleniamo 5 o 6 volte a settimana Dobbiamo ottimizzare ogni singolo allenamento Per far sì che non interferisca con quello subito successivo Mi raccomando di non sentirti subito un atleta avanzato E non correre subito a fare 5 o 6 sedute settimanali Abbi fiducia nelle 3 sedute settimanali in palestra E sappi che sicuramente se ti alleni bene E se manovrerai correttamente volume ed intensità E se la selezione degli esercizi sarà ottimale E se l'esecuzione degli esercizi sarà ottimale Crescerai sicuramente con ottimi risultati Anche in tempi relativamente brevi Una volta che sei arrivato a livelli più elevati Potrai sicuramente introdurre un quarto giorno E beneficiarne Ma sappi anche che non sarà comunque necessario E imprescindibile aggiungere un quarto giorno Possiamo tutti ottenere ottimi risultati Anche con 3 sedute settimanali Io spero che questo video ti sia servito e piaciuto Se così è mi raccomando come sempre di lasciare un like E di iscriverti al canale YouTube Buon allenamento e alla prossima